Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura torniamo a parlare dell'omicidio di San Polo. Il comune di Arezzo ha scritto una lettera al proprietario dell'abitazione Sandro Mugna e la richiesta era quella di una messa in sicurezza del casolare ancora inagibile, soprattutto sotto sequestro a distanza di ore, così è arrivato il dietro fronte dell'amministrazione comunale. Una situazione anche ridicola, secondo me. Kafka ci avrebbe scritto qualcosa. Il comune intima di mettere in sicurezza il casolare di San Polo che però è ancora sotto sequestro in quanto teatro di un delitto, insomma una vicenda che ha dell'incredibile. Protagonista a suo malgrado, Sandro Mugnai, l'aretino che lo scorso 5 gennaio aveva sparato con una carabina contro al vicino che stava tentando di buttargli giù la casa a colpi di Benna, uccidendolo. Il casolare, pesantemente danneggiato, fu subito dichiarato inagibile dai vigili del fuoco. Ovviamente non è in sicurezza e questo è sicuro perché tra l'altro c'è proprio una questione di stabilità. Nessuno può ancora entrare ma il proprietario dell'immobile è arrivata la lettera protocollata dal comune di Arezzo che lo invita a provvedere ai lavori per rimettere in sesso l'immobile, procedura standard che però non ha tenuto conto dei sigilli. Incredibile però è così. Ovviamente abbiamo già provveduto a comunicare al comune che essendo sotto sequestro è impossibile. Di conseguenza credo che su questo aspetto almeno non ci saranno ulteriori problematiche. La casa è stata al centro anche della perizia balistica che dovrà confermare o smentire il racconto fatto da Sandro Mugnai. Abbiamo fatto anche un'istanza di dissequestro perché ritenevamo o comunque pensavamo che gli accertamenti fossero stati effettuati. Tutti invece il giudice l'ha rigettata dicendo che ci sono ulteriori accertamenti. Di conseguenza siamo in attesa. Mugnai era stato arrestato la notte stessa dell'omicidio. Dopo quattro giorni di carcere per omicidio volontario era stato scarcerato dal GIP che gli aveva riconosciuto la legittima difesa ma è ancora indagato per il reato più pesante previsto dal codice penale. Pur nella gravità di quello che è successo è sicuro che non poteva fare altro. I carabinieri di Sansepolcro hanno sequestrato una pistola ed altri oggetti atti ad offendere ad una giovane residente alla Borgo. I militari qualche sera fa infatti hanno notato il conducente di un'auto che alla loro vista improvvisamente ha cambiato direzione come se stesse evitando di incontrarli. A quel punto sono scattati ulteriori accertamenti e perquisiti veicolo e conducente poco più che maggiorenne sono stati trovati addosso alla giovane. Prima un coltello poi una pistola salve totalmente identica ad una vera anche nelle fattezze. Mentre nell'auto è stato trovato una bastone di mezzo metro. Il giovane non ha saputo dare spiegazioni valide per giustificare il possesso di quegli oggetti che sono stati così sequestrati per comprendere se siano stati usati per commettere reati. E ancora una giornata di incidenti sulle strade della provincia. È grave un uomo di 43 anni investito stamani sul raccordo Bettolle-Perugia dopo che era sceso dal suo camion. L'incidente è avvenuto poco dopo le 11.35. L'uomo, soccorso in codice rosso con Pegaso, è stato trasferito d'urgenza al policlinico delle scotte a Siena. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia stradale. E un altro schianto è incitato a due auto attorno alle 12.30 in via Calvania all'incrocio con via Edison. Una delle due auto si è ribaltata. Un uomo di 44 anni e una donna di 31 sono stati trasportati dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo, in codice verde, sul posto in questo caso la polizia municipale per i rilievi di legge. Passiamo adesso alla pagina dell'economia. Economia, Arezzo torna a sorridere per quanto riguarda le esportazioni. Nei primi nove mesi del 2022 l'export distrettuale dell'intera regione ha superato il valore di 18 miliardi di euro. Il massimo dal 2008 con una crescita di 2,4 miliardi rispetto al corrispondente periodo del 2021, dunque più 15%, notevole il contributo di Arezzo, 464 milioni di euro. La provincia ha realizzato anche la miglior performance provinciale anno su anno in termini percentuali, più 23% nel gennaio-settembre 2022, a trainare ancora una volta il comparto orafo. Questi sono i dati della monitor dei distretti elaborati dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa San Paolo. E adesso passiamo alla sanità. Il numero dei ricoverati per Covid-19 scende come testimoniano i numeri sia in Toscana che ad Arezzo e la terapia intensiva Covid torna a svuotarsi zero il numero dei pazienti. Ci siamo entrati ormai quasi tre anni fa per la prima volta per raccontare quello che si stava vivendo all'interno delle terapie intensive Covid. Oggi la terapia intensiva del San Donato di Arezzo è riservata ai casi Covid, è vuota. L'ultimo dei pazienti è stato trasferito due giorni fa. Ci sono sempre meno ricoverati da Covid, spiega la dottoressa Raffaella Pavani, direttore di anestesia e reanimazione dell'ospedale San Donato di Arezzo. Nel gennaio di quest'anno i pazienti sono stati soltanto 10 contro i 45 dello stesso mese del 2022. Il periodo Covid lo ricordo come un'esperienza che ci ha cambiato in termini professionali e umani. Ci sono stati tanti momenti di paura, tanta stanchezza fisica che abbiamo sentito dopo il periodo clou. Non c'è però solo il Covid. La terapia intensiva, spiega la dottoressa riservata appunto a questo tipo di malati, oggi è vuota ma il carico di lavoro non è diminuito. Nel nostro reparto negli ultimi mesi hanno fatto il loro ingresso tanti pazienti con insufficienza respiratoria, un numero più alto rispetto agli anni precedenti, come quello delle influenze. Il carico di lavoro dunque, se guardiamo i numeri, è praticamente raddoppiato rispetto al Covid, ma con l'equip riusciamo a dare sempre risposte agli utenti. Insomma, l'influenza picchia duro, forse tanto quanto il Covid. Nell'ultimo mese, dice ancora la dottoressa, il tasso di occupazione in reparto è stato del 103%. Per quanto riguarda invece la campagna vaccinale contro il Covid, si riparte dai bambini, con novità per le fasce tra 5 e 11 per i piccolissimi 3, 6 e 4 anni che seguono gli indirizzi impartiti dal Ministero della Salute. Da mezzogiorno di domani saranno aperte le prenotazioni sul portale regionale per sottoporre la terza dose, quindi il busser, i bimbi tra i 5 e gli 11 anni. Oltre alla prenotazione sul portale per effettuare la vaccinazione, sarà possibile anche rivolgersi ai centri specialistici di riferimento nel caso di piccoli e fragili oppure alla pediatra di famiglia. E sarà un febbraio ricco di appuntamenti per le farmacie di Arezzo. Torna infatti dal 7 al 13 febbraio la giornata della raccolta del farmaco. Invece dal lunedì 13, sabato 25 febbraio, in programma la campagna informativa dal tema rimedi naturali. Ed infine, mercoledì 1 febbraio, la farmacia Trionfo ospiterà lo screening dell'occhio secco. Adesso andiamo a conoscere un'iniziativa dell'Asla Toscana Sud-Est che fa parte del percorso di accompagnamento alla nascita, si chiama Nati per la musica. La musica evoca emozioni. Il bambino non è un essere inerte che cresce soddisfacendo bisogni elementari, ma cresce nella relazione. La musica implica una relazione emotiva. Una nina nanna della tradizione toscana per le mamme in dolce attesa è quella proposta da un gruppo di musicisti all'interno di uno degli incontri che fanno parte del percorso di accompagnamento alla nascita. Perché la musica è uno strumento fondamentale per unire e relazionare il genitore in modo positivo con il bambino. Quindi il nostro augurio è che siano presenti magari anche i papà a questi incontri perché i bambini riconosceranno sia la voce della mamma che del papà sin dalla gravidanza. Il rapporto con la musica nasce nel terzo trimestre di gravidanza quando il bambino è in grado di ascoltare il ritmo del cuore che batte della mamma e la melodia della voce della mamma. Se a questo aggiungiamo una musica che lui potrà riascoltare quando ha le terribili crisi di pianto sappiamo scientificamente che l'ascolto della musica è un ottimo strumento per consolare il bambino. Il programma Nati per la musica è contenuto nella convenzione sottoscritta dalla zona distretto a retina dell'Asla Toscana Sud-Est e l'Associazione Culturale Pediatri. che va ad affiancare tutta una serie di altre iniziative non solo qualitativamente avvalorate ma, ripetiamo, assolutamente gratuite e rivolte a chiunque presente sul nostro territorio. L'impianto di recupero integrale di San Zeno ha ospitato un progetto europeo sulla sostenibilità. È l'impianto di recupero integrale di San Zeno ad ospitare Sassnet, un progetto europeo che ha l'obiettivo pratico di far entrare dentro le aziende la sostenibilità e fare poi in modo che questa venga trasmessa anche alle catene dei loro clienti e fornitori. Si tratta di un progetto Erasmus di collaborazione europea di partenariato finanziato in Spagna nell'ambito della formazione professionale. Il progetto coinvolge cinque organizzazioni micro di Spagna, Cipro, Grecia, Italia e Danimarca le quali collaborano insieme per apprendere come portare avanti i progetti di sostenibilità all'interno delle loro organizzazioni, progetti ma anche network, quindi progetti europei in partenariato che siano sostenibili. Aiuta anche le organizzazioni ad insegnare ai loro dipendenti come apprendere appunto come portare avanti attività sostenibili all'interno delle organizzazioni. Quindi è un progetto di formazione per le micro organizzazioni. Può essere il nostro progetto con questa stessa organizzazione che è un progetto fondamentale non solo se è sostenibile, ma se è nostra organizzazione. Praticamente il progetto non mira solo a lavorare all'interno delle organizzazioni, quindi ad apprendere, a permettere ai dipendenti di apprendere come portare avanti all'interno delle organizzazioni i processi di sostenibilità ma anche come creare network, quindi come coinvolgere i clienti, come coinvolgere i fornitori, i quali in network, in collaborazione portano avanti i processi sostenibili di sviluppo e di produzione. L'impianto dunque attraverso la collaborazione con OpenCom diventa un esempio a livello europeo. Sapere che in questa delegazione sono presenti tanti paesi europei, tra cui la Danimarca, che a Copenaghen vanta un'impiantistica d'eccellenza in cui si fanno addirittura attività sportive, per noi è qualcosa che ci fa molto piacere perché anche il nostro impianto, questo impianto di Arezzo, che è di tutti i cittadini, ricordo, è pubblico, avrà e ha già adesso delle zone dedicate alle attività sportive. Le sportive saranno dedicate a tutto quello che è il messaggio sull'importanza delle piante, con Bosco Fratino, primo step, l'abbiamo presentato veramente pochi giorni fa. Qui ci sarà tutto un bosco tra 3-4 anni e poi ci saranno tutta una serie proprio di attività mirate per le scuole per far capire l'importanza di questi impianti. Se non si vedono, se non si vivono, purtroppo si fanno chiaramente avanti tutta una serie di ombre che purtroppo sono state utilizzate nel passato anche per delle strumentalizzazioni. Ciò fa male a tutti quanti perché il concetto degli impianti come questo proprio sono a servizio dell'economia circolare e il concetto è lavorare i rifiuti a chilometro zero all'interno di un ambito di produzione degli stessi rifiuti che sia ottimale. Parliamo adesso di menze scolastiche. Il Comune di Arezzo ha prorogato l'assegnazione del servizio di ristorazione scolastica all'attuale gestore Elior. La scadenza che sarebbe maturata il 31 gennaio è stata spostata al 31 luglio. Questo permetterà di coprire tutto l'anno scolastico ed educativo dei servizi all'infanzia senza interruzioni del servizio mensa. Si tratta di una proroga tecnica che servirà per avere il tempo per portare a compimento le procedure della nuova gara per l'affidamento della gestione dello stesso servizio per gli anni che vanno dalla 2023 alla 2027. E adesso ci spostiamo in Valdarno, chiusura in grande stile per la mostra Masaccio Angelico, dialogo sulla verità della pittura. Il filosofo Massimo Cacciari e lo scrittore Tiziano Scarpa saranno infatti i protagonisti degli ultimi appuntamenti che il Comune di San Giovanni Valdarno ha organizzato per avvicinare il pubblico alle opere ai temi della mostra venerdì. 3 febbraio alle 17.30 alla pieve di San Giovanni Battista, protagonista sarà il celebre filosofo e professore merito di estetica dell'Università di Venezia, mentre il 5 febbraio sarà la volta di Tiziano Scarpa, vincitore del premio Strega nel 2009. E ad Arezzo invece sono tornati gli appuntamenti di altre danze. Portiamo i ragazzi a teatro, il primo appuntamento è stato con Luce. Non so mai quando arrivano e perché, le domande arrivano e basta. Danfa, giochi luminosi e filosofia, scena al teatro Mecenate e Luce di Alinari. Arrivano quando meno le aspetto, quando sto per addormentarmi, quando vado via dal mare, quando guardo fuori dalla finestra, sono Luce. Lo spettacolo, aperto a altre danze, rassegna che fino a marzo animerà i teatri Aretini con un programma di eventi dedicato ad un vasto pubblico e pensato per bambini, giovani, famiglie e scuole. C'è una voce narrante, diciamo, che sono i pensieri miei, ma in questo caso di una bambina che si fa le domande. E io danzo su queste parole, danzo sulle domande, cercando di trasformare in movimento e in immagine quello che la voce dice. Non è un mimare le domande, ma è lasciare che la danza evochi un'atmosfera in cui è il corpo stesso a suggerire immagini e domande. È un processo, diciamo, simile al sogno e come nei sogni la realtà, in qualche modo, cambia e diventa altro da quello che è. Luce è uno spettacolo consigliato dai sei anni, un viaggio per cercare il filosofo che c'è in ogni bambino e in grado di coinvolgere grandi e piccini. Ho scoperto che non si smette mai di domandarsi, di farsi le domande a tutte le età e che le domande del bambino incontrano le domande della persona adulta e dell'anziano. In Pieve una serata di musiche e parole con Insieme Perra. È un concerto che facciamo insieme alle ACLI e all'Associazione Diabetici ed è dedicato a tutti noi, come al solito ne facciamo per beneficenza, quindi se poi raccogliamo qualcosa, ne li rinvestiremo sulle nostre attività della miserifordia. Emozioni e storie raccontate attraverso i brani musicali del Novecento, la Chiesa di Santa Maria della Pieve ha ospitato la seconda edizione del concerto Insieme Perra, una serata di musiche e parole per riflettere sulle diverse situazioni della vita dell'uomo. Sono 12 brani, ogni brano ha una sua connotazione che riflette alcuni momenti della nostra esistenza, quindi avremo la gioia, avremo il dolore, avremo l'amicizia, avremo l'amore di Dio, avremo un pochino tutte queste... è un momento per poter fare una riflessione su come noi stiamo vivendo. L'iniziativa è stata promossa dalla Misericordia e dalle ACLI assieme all'Associazione Diabetici e Aretini. È importante ricordare l'impegno dei volontari, alle volte ce ne dimentichiamo perché non è qualcosa che è visibile in maniera eclatante come tante altre cose, ma ogni giorno operano nella nostra città, nel nostro paese, nel mondo intero volontari che si sacrificano che a volte mettono anche in pericolo la propria vita per il prossimo. Quindi credo sia veramente la loro festa stasera, il momento in cui devono essere ricordati ed essere amati. Protagonista della serata la band M&M Medici e Musica. Anche l'anno passato l'abbiamo fatto, quindi siccome è venuto bene, ci piacciono questi momenti, l'abbiamo replicato. Stavolta qui in Pieve ringrazio Don Alvaro per averci dato questo luogo così bello per poter fare questo momento di gioia e per esprimere questa nostra felicità per tutti noi. E' una festa per tutti noi. Passiamo adesso alla pagina dello sport, al calcio. La società sportiva Rezzo ha annunciato di aver raggiunto l'accordo con il football club Crotone per l'arrivo in amaranto di Raffaele Cantisani. Calciatore classe 2004, si trasferisce in Toscana a titolo temporaneo. Ed intanto oggi pomeriggio il presidente Manzo, dopo la partita della scorsa domenica, ha deciso di incontrare i giocatori e il mister. Sentiamolo. Delusione, la delusione c'è perché dopo la partita di domenica effettivamente ero molto molto deluso. Oggi ho parlato con la squadra, con il mister, prima di tutto ho fatto due chiacchi con il direttore Giovannini che mi ha spiegato alcuni aspetti. E poi abbiamo affrontato bene tutti gli argomenti, toccato i tasti giusti sia con i giocatori che con lo staff tecnico. Ci siamo chiariti, abbiamo cercato di capire quali sono state le eventuali problematiche e abbiamo avuto rassicurazioni che non succederà più da questo punto di vista. Quindi piano piano i ragazzi adesso si metteranno sempre di più a disposizione sapendo che portano la maglia della Rezza e la devono onorare fino alla fine e in qualunque circostanza. Beh, diciamo che ho toccato tutti i tassi con la squadra perché non siamo né quelli delle prime sei giornate e non siamo neanche quelli del secondo mini girone, chiamiamolo così. Abbiamo toccato vari tassi, i tassi più importanti sono stati quelli di impostare cosa è successo, perché oggi bisogna capire cosa è successo fino ad oggi. Quindi siamo andati su vari aspetti, abbiamo cercato di capire alcune tolleranze a riello calcissimo, quindi abbiamo visto ad esempio partite dove abbiamo avuto delle espulsioni, c'è una delle poche squadre che ha finito cinque partite in dieci, cosa che è impensabile, specialmente in questo campionato. quindi di stare i ragazzi un po' più calmi, di pensare più alla squadra e meno a loro stessi, guardarsi meno allo specchio ed essere più cattivi, specialmente agonisticamente quando si parla di giocare a calcio. Perché ricordiamoci sempre che loro giocano a calcio. Io ho fatto un esempio di ogni volta che scendono a campo ricordarsi che c'è qualcuno che attacca a lavorare pesantemente. loro giocano sempre in attacca a calcio e dare il massimo che possono dare senza farci vedere e farci umiliare come è successo domenica. Perché io domenica mi sono sentito umiliato, come proprietario di questo club devo chiedere scusa a tutti i tifosi per quello che abbiamo fatto domenica, che è pazzesco. Quindi voglio vederli con la rabbia addosso, poi se l'avversario è più bravo, gli batto anche le mani. Ma non fare come domenica che non siamo niente scesi in campo, questo non va bene. Io l'ho ribadito, ho cercato di fargli capire quali sono i sacrifici che fa questa società. Noi vogliamo andare in Serie C e con tutte le nostre forze. Non voglio nemmeno sentire qualcuno che scrive alla società, la società vuole andare, la società vuole salire, la società vuole portare il club dove merita e per me non merita neanche la Serie C, merita la Serie B. L'ho detto dal primo giorno che sto qua. Ma per fare questo dobbiamo vincere questa maledetta Serie D. Ho spiegato ai ragazzi i sacrifici che facciamo, che sono sacrifici importanti, economici, sacrifici di tutti i generi. Siamo una delle poche società sane nel territorio professionistico-divettantistico. Quindi non ci dobbiamo creare problemi, non hanno alibi, devono vincere il campionato. Poi se lo vince qualcuno che è più bravo è un altro discorso. Ma se lo dobbiamo perdere noi per degli nostri atteggiamenti, questo a me non sta bene. Ho cercato di farglielo capire bene e da buon pari di famiglia e soprattutto mettendo i puntini su lei. Questo sia con i giocatori che con lo staff tecnico. A parte la gran bella partenza, due volte l'Arezzo ha toccato l'apice a Pian Castagnaio, a Gavorrano. Poi subito dopo ci sono state inspiegabili battute d'arresto. Ecco, è proprio questo che dicevo prima. Non ce lo siamo spiegati. Loro non sono ancora riusciti a spiegarmi perché da partite così belle, lottate fino all'ultimo secondo in campo, poi siamo passati a prendere i schiaffi dalle cosiddette, tra virgolette, mi perdoneranno, piccoline del campionato. Cosa che non può accadere all'Arezzo Calcio. Il primo giorno che facevamo la riunione dissi noi siamo una squadra che ci aspetteranno tutti col cortello tre denti, sia in casa che fuori. Perché mettersi in mossa contro l'Arezzo in Serie D è importantissimo. Tant'è vero che noi abbiamo fatto bene con le squadre più importanti e abbiamo fatto male con le squadre minori. Deve cambiare questo trend. Abbiamo 13 partite alla fine, non mi piace, si fa a telefinali, no. Noi dobbiamo vincere il campionato. Poi come lo vincono, lo vincono. L'importante è che arriviamo a fine, che siamo lassù. E ripeto, soltanto se c'è qualcuno che dimostra che è più forte, allora alziamo le mani. Allora, noi abbiamo rinnovato, io personalmente ho rinnovato la fiducia a indiani perché l'abbiamo scelto a inizio campionato, l'abbiamo scelto perché crediamo fortemente nelle sue capacità di tecnico e di uomo. E quindi è sicuramente confermato al 100% e a tutta la nostra fiducia per il proseguo del campionato sperando, come ho sempre detto, ripeto, che ci porterà sicuramente, come sono straconvinto, ci porterà a vincere il campionato. Due ori per l'Aiga Atleti Carezzo nell'ultima tappa del meeting nazionale di Ancona. Il mese di gennaio è stato caratterizzato da una serie di gare nella città marchigiana che hanno fornito ad atleti di diverse categorie l'opportunità di vivere un confronto con avversari da tutta la penisola e di preparare i futuri campionati regionali e italiani con la società Aretina che ha raggiunto ottimi risultati nelle discipline di salti e velocità. I piazzamenti più importanti sono arrivati nel salto in lungo con le vittorie di Anna Visibelli della 1993 e Nicolás Gavagni della 2007. La prima ha trionfato agli assoluti con 6,2 metri, mentre il secondo si è piazzato davanti a tutti tra gli allievi con 6,89 metri. Questa per stasera è l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.